Ciao a tutti, io sono Simone e faccio parte del team di consulenza tecnica e academy di IVAR. In questo breve video ci focalizzeremo sui nostri collettori in acciaio inox, collettori caratterizzati da una grande manovrabilità e allo stesso tempo da una grande resistenza chimica e meccanica. Nello specifico vedremo due importanti novità. La prima novità riguarda la taglia. Oltre alla già esistente misura un pollice, abbiamo introdotto e aggiunto alla gamma la misura da un pollice in quarto. Entrambe le taglie sono disponibili sia come singolo collettore di mandata o di ritorno, sia come kit completo. Chiaramente il numero di vie e la dotazione di accessori sono configurabili a seconda delle esigenze dell'impianto. La seconda novità nasce dal voler rendere sempre più facile l'installazione dei nostri prodotti. Infatti il redesign del nuovo collettore in acciaio inox fa in modo che il lavoro dell'installatore sia ancora più semplificato, soprattutto nei casi in cui il collettore si è installato all'interno di muri a spessore ridotto. Il kit collettore viene normalmente fornito con le vie di mandata allineate a quelle di ritorno. Con il nuovo design, ruotando di 180 gradi uno dei due collettori, le vie risulteranno disallineate. Le tubazioni di mandata e di ritorno non saranno più sovrapposte e ci sarà maggiore spazio per il loro passaggio, rendendo così ancora più semplice l'installazione.